Escusa la sfida di Montesacchio tra Cervinare e Napoli United, si sono giocate le gare dei play-off e dei play-out nei campionati di eccellenza di promozione. Turno amaro per le Irpine che abbandonano tutte le loro sogni di gloria. Il Lions-Monzo è un minuto montemiletto cad al guaria di Agropoli 3-1, fatale agli uomini di Mister Contaldo il peggior piazzamento nella griglia play-off. Una doppietta di Natiello pieghi le uni nella prima frazione, primo gol spettacolare di tacco per il numero 7 del Fino. Eppure gli Irpini erano riusciti a pareggiare momentaneamente alla contesa con il gol di Arevalo che dribbla tutta la difesa e poi batte con un sinistro che bacia il palo praiola. Nella finale Vitelli entrato a gare in corso mette fine ai sogni gialloverdi. Il città di Avellino abbandona la Serie A dei dilettanti regionali dopo il capo al Piero Di Saviano, ripresa amara per gli avellinesi, allenati nell'occasione da Mister De Luca. Prima Lombardi, poi l'ex grotta Casillo condannano alla promozione i lupi avellinesi dei dilettanti che falliscono con Cacciottolo anche un calcio di rigore. Gli avellinesi sono la seconda squadra irpina a retrocedere dopo la vista in Arcadia. In promozione una doppetta di Romano e un gol di Varriccio condannano allo scutece la bisaccese che saluta la promozione e torna dopo tantissimo tempo in prima categoria. La squadra di Mister Santoli raggiunge Mano Calzati, Montoro e Real San Martino, un poker tutto irpino che lascia la caratteria dei dilettanti regionali.